Si è dato il via ai PUC, progetti utili alla collettività. Il Comune di Civitavecchia ha istituito un bando rivolto agli istituti scolastici il quale presenteranno progetti che coinvolgeranno i percettori di reddito di cittadinanza. Nel nostro Comune abbiamo circa 3.000 percettori del reddito e circa 500 sono all'interno dei servizi sociali, quindi sono trattati anche da quelli che sono i nostri uffici. Molto importante è appunto questo bando che è stato istituito il 24 di novembre con il quale noi diamo spazio agli istituti scolastici per poter presentare dei progetti che possano interessare la solidarietà, che possono interessare il bene pubblico, che possono interessare con i loro progetti tutto quello che è sociale. In questo modo noi riusciremo a far partecipare i percettori del reddito di cittadinanza all'interno di questi percorsi, per andare a sostenere gli operatori all'interno degli istituti, sempre per queste finalità sociali, superando quello che è adesso l'assistenzialismo, che sembrerebbe l'aspetto più importante. In questo modo i percettori del reddito potranno restituire alla città e alla società questo che è stato un supporto e che continua ad esserlo purtroppo per molte persone.